bagnaia bagnaia è campione del mondo della moto gp e ragazzi è campione del mondo dopo cioè non so se ci rendiamo conto dopo l'ultima volta dopo l'ultima volta che abbiamo visto sul trono della moto gp il signor egregio campionissimo illustre fantastico le potrei dire tutte su di lui valentino rossi e dopo 15 anni bagnaia è riuscito a ritornare sul strono sul tetto del mondo sul tetto del mondo è riuscito bagnaia a tornare dopo 15 anni di sofferenza dove non si riusciva più a vincere dopo il professore dopo il nostro grande professore valentino rossi dopo i suoi ultimi anni di crisi ovviamente anche dovuti un po all'età non vi sono stati piloti italiani in grado di riuscire a vincere con supremazie a volte spagnole a volte di altre nazionalità e qui dopo quindici anni bagnaia ha fatto il croppaccio ed è tornato sul tetto del mondo ripeto dopo quindici anni ha vinto la moto gp meritatamente più che meritatamente sono stato felicissimo nel vedere il gran premio sono stato felicissimo nel vedere l'esultanza anche della ducati che dopo tanto tempo anche la ducati dopo tantissimo tempo è riuscita a tornare anche la ducati sul trono tutto ciò è fantastico tutto ciò è un qualcosa è un qualcosa che rimarrà sulla storia ovviamente come valentino rossi rimarrà per sempre sulla storia come il pilota italiano che ha vinto realmente più di tutti stiamo parlando di un ragazzo di un pilota che ha finalmente continuato ciò che valentino rossi aveva iniziato e riuscire a continuare ossia è riuscito a tornare sul tetto del mondo e speriamo che sia il primo di tanti successi per questo pilota un saluto a tutti